Sindaco, questione Real Giulianova, questione campionato di Serie D, ad oggi il presidente Bartolini pare che abbia contattato il sindaco di Martinsicuro Massimo Vagnoni per spostare di fatto la squadra e giocare le partite casalingue proprio a Martinsicuro. All'oggi come è la situazione? C'è da dire che il presidente Bartolini non ha contattato nessuna di questa amministrazione comunale ma si è andato a confrontare con il sindaco di Martinsicuro, oltretutto con scarsi risultati perché ho parlato con il sindaco di Martinsicuro e mi ha detto che non ci sono i presupposti a questo momento per ospitare la squadra Real Giulianova, oltretutto a delle condizioni che non sono fattibili. A seguito di quell'incontro il presidente Bartolini mi ha fatto contattare l'avvocato Cozzolino, penso che lo incontrerò una giornata di domani, il presidente Bartolini, vi dico francamente che non comprendo per quale motivo non siamo stati contattati prima noi ma si è preferito chiamare prima il sindaco di un'altra città. Questo naturalmente non significa che noi lavoreremo contro il calcio a Giulianova, anzi ci mancherebbe, però fa un po' strano vedere una situazione dove qualcuno prima prova ad andare in un comune come quella di Martinsicuro, lasciando il comune più importante calcisticamente a provincia di Teramo, per poi dire magari che non si è trovato ospitalità a Martinsicuro di voler tornare a giocare al Fatinni che è uno stadio storico, lo stadio più importante secondo me che c'è in provincia di Teramo. Noi siamo spettatori, ci occupiamo di pubblica amministrazione, facciamo rispettare le regole e naturalmente cerchiamo di venire in conto a quelle che sono le esigenze, a norma di legge di tutte le società. Con lo stato attuale però Giulianova che ha due squadre, al momento una in serie di un'eccellenza. Sì, a due squadre, una in eccellenza, una in serie di, la squadra in eccellenza ha manifestato la volontà di giocare a Giulianova, di mettersi a disposizione dell'amministrazione comunale, noi ci fa piacere, domani avrò piacere anche di sapere che cosa intende fare il presidente Bartolini dopo quell'uscita, insomma un po' infelice, di voler spostare il titolo in una città, insomma Martinsicuro, molto importante ma che non ha una grossa tradizione calcistica come Giulianova.